Motherfatter, bentornati su a... non so, ho dimenticato il nome del gioco, Monster Hunter World e dunque, oggi andiamo a vedere la Gunlance, cioè un'arma figa Gunlance, secondo scudo più forte del gioco, R2 ci separa molto paroso molto lenta però, per cui premete X per spostarvi vi consuma un po' di stamina, come vedete in alto a sinistra, ma la velocità di movimento è abbastanza alta inoltre, è possibile fare questi spostamenti diagonali molto carini, molto utili quindi una volta che la vostra arma è sguainata, non sempre avrete bisogno di rinfoderarla e correre in giro spesso vi potrete semplicemente spostare così tenete presente che Evade Window e Evade Extender, quindi la roba che potenzia la schivata potenzia a tutti gli effetti questi passetti che potete fare con X, perché sono a tutti gli effetti delle schivate quindi sfruttate Evade Extender, Evade Window, se avete slot liberi nel vostro equipaggiamento, nelle vostre decorazioni parliamo dell'arma, è un'arma non molto complicata ma che potrebbe esserlo in alto a sinistra ci sono due valori diversi i proiettilini o shellings, che sono quei cinque cosi e quell'altro coso buffo là sotto che è il contatore del Wyrmsteak credo si chiami una cosa del genere un attacco particolare insomma è un contatore che ti dice se lo puoi usare o no in quel momento cominciamo da una cosa che molti apprezzano da quest'arma che è il Wyrm Fire cioè da posizione di guardia, triangolo più cerchio se mette a fa' sto coso, lo potete puntare e scoppia con tre attacchi a danno prefissato abbastanza interessanti non è ottimale per niente perché è lento a uscire usatelo per svegliare i mostri se avete finito le bombe se avete le bombe, le bombe sono meglio e quindi non vi serva niente ora, quando lo usate la punta della vostra lancia diventa red quando la punta della vostra lancia è red non lo potete usare finché non smette di essere red ora, come se Faffa smette di essere red dovete aspettare, fine, non c'è altro metodo parliamo degli shelling i vostri attacchi cerchio generalmente sparano e consumano gli shelling quando arrivate a zero R2 più cerchio li ricarica questo è un reload manuale lento che ricarica sia gli shelling che il Wyrmstake andiamo a vedere cos'è il Wyrmstake come ve lo posso far vedere facciamo così questo è il Wyrmstake praticamente pianta una puntina da disegno dentro il mostro e la puntina da disegno fa dei danni il Wyrmstake è una mossa fortina non eccezionale non fa un grande DPS perché se vedete la maggior parte di quei numeri che sono usciti lì sullo schermo erano dei nove quindi insomma niente di che R2 più cerchio ricarica sia gli shelling che il Wyrmstake un normale R2 più cerchio detto manual reload andiamo a vedere bene l'animazione del manual reload R2 cerchio li fa sto tuc e ricarica c'è un altro tipo di ricarica si chiama ricarica rapida eccola qua che invece di fare il classico stu tuc lui fa flu flip onomatopee aiutano sempre andiamo a rivedere il flu flip eccolo qua questo è il flu flip il flu flip non ricarica Wyrmstake ricarica soltanto i proiettilozzi queste sono un po' le cose che occorre sapere per la gestione delle vostre risorse le vostre risorse abbiamo detto Wyrmstake Wyrmstake niente di che Wimsy gotto cannon qui Wyrmstake e poi i normali proiettili che abbiamo visto generalmente escono col cerchio d'accordo Simo abbiamo capito l'antifona ma sapremo quali sono le nostre risorse ma come le usiamo e quali usiamo e quando parliamo un po' degli attacchi utili della nostra lancia a lancia sfoderata triangolo e avanti fa lunging up thrust molto utile per chiudere le distanze come vedete fa wiii visto fa una corsetta triangolo e basta fa un lateral thrust tipico della lancia può essere usato proprio come nella lancia combo da tre saltellino combo da tre è utile? poco è un poke quando non sapete che altro fa fate questo un poke qua e là due poke perché non sapete quanto spazio c'è e ve ne andate oppure due poke e vi parate lancia può fare questi poke anche oltre al lateral thrust r2 e triangolo fa guard thrust guard thrust cioè r2 triangolo 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 è una mossa niente di che colpisce in alto rispetto al lateral thrust che invece colpisce dritto per dritto ma la sua peculiarità è che se premiamo triangolo tenendo premuto r2 e non spammiamo triangolo lui ritorna in guardia a buona velocità ok tenete presente che diversamente dall'r2 triangolo della lancia questo attacco non fornisce copertura durante l'esecuzione quindi non siete effettivamente imparata anche se si chiama guard thrust cioè a fondo è imparata non siete davvero imparata è solo breve la distanza tra il suo uso e la parata quindi è valido di nuovo quando non conoscete lo spazio d'esecuzione del mostro della prossima cosa che farà queste opzioni che abbiamo visto quindi questa questi e questi sono cose situazionali d'accordo utili di tanto in tanto ma non ottimali vediamo un po' la nostra combo ottimale cioè la nostra cosa che fa più danni in assoluto se continuata a tirare l'obiettivo è sollevare la lancia in alto quando la lancia punta in alto è il momento di fare un overhead smash gli overhead smash si fanno diversamente in base a come abbiamo puntato in alto la nostra arma cominciamo con la versione base triangolo più cerchio da fermi farà rising slash in triangolo overhead smash d'accordo? triangolo cerchio triangolo triangolo è un'ottima combo che non consuma shelling che è la nostra opzione migliore perché fa un fottio di danni se il tempo a disposizione è poco d'accordo? fare questa è ottima perché consuma poco tempo fa un fottio e mezzo di danni quindi triangolo cerchio in overhead smash in wide sweep triangolo cerchio come vedete si chiama rising slash cioè concettualmente il colpo che sale dopo che una cosa è salita è possibile fare overhead smash colpo da sopra la testa ora parliamo se il tempo è un po' di più cosa facciamo? più o meno uguale guardate questa è la nostra combo più potente cioè andiamo a mettere l'arma verso l'alto la schiantiamo premiamo cerchio poi triangolo poi r2 più cerchio che cosa è stato fatto? triangolo cerchio rising slash triangolo overhead cerchio burst fire wide sweep quick reload il motivo per cui questa combo è così forte è che è ripetibile in se stessa all'infinito vi faccio vedere mi sono un po' sbagliato sulla fine ma avete capito il concetto e adesso vi spiego il perché questa è la combo più efficace di quest'arma il motivo è piuttosto semplice ed è il fatto che burst fire questa nostra terza mossa è la cosa con più dps che abbiamo a disposizione molto semplice ogni qualvolta facciamo un overhead smash cerchio farà burst fire burst fire è la nostra mossa migliore quindi il nostro obiettivo è tirare più burst fire possibili per unità di tempo e il modo migliore per farla è questa combo che vi ho fatto vedere e che adesso vi farò rivedere again cosa sfrutta questa combo sfrutta burst fire che abbiamo capito che si fa dopo un overhead smash e sfrutta il rapid reload cioè quel colpo la ricarica rapida che si fa solo dopo un colpo di triangolo qualsiasi colpo di triangolo può andare in quick reload ma deve essere un colpo di triangolo quindi come facciamo rising overhead burst colpo di triangolo ricarica rapida rinse and repeat più o meno ora qui interviene l'unica vera complicazione della gun lens cioè non sempre triangolo cerchio ci farà rising slash e triangolo overhead smash durante la nostra combo in particolare premere triangolo dopo il quick reload ci fa rising slash il che causa una perdita di dps dopo il quick reload siccome l'arma è già in effetti puntata in alto moderatamente in alto è sempre possibile premere triangolo cerchio per andare direttamente in overhead smash overhead smash abbiamo visto che con cerchio conduce a burst fire cioè la cosa a cui dobbiamo arrivare più in fretta in sostanza fare questo in triangolo condurrà a overhead smash e quindi a burst fire quick reload in triangolo e fare rising in triangolo e fare overhead ci condurrà a burst fire ma più lentamente c'è quel rising slash in mezzo che noi non ciò perché è una perdita di dps perché allunga la distanza tra un burst fire e un altro noi dobbiamo tirare più burst fire possibili più spesso possibile pertanto la nostra combo definitiva visto che abbiamo visto che dopo un quick reload triangolo cerchio fa direttamente overhead la nostra combo sarà triangolo cerchio triangolo cerchio triangolo per andare in quick reload triangolo cerchio cerchio triangolo per andare in wide sweep poi quick reload e poi di nuovo triangolo cerchio cerchio triangolo quick reload triangolo cerchio cerchio triangolo quick reload triangolo cerchio cerchio triangolo quick reload ma questo ve lo scrivo naturalmente in basso l'unico impiccio concettuale a tutto ciò è che il primo triangolo cerchio non può andare direttamente in cerchio perché il primo triangolo cerchio da fermi non è un overhead smash dovremmo fare triangolo cerchio in triangolo diciamo semplicemente che la nostra combo principale è triangolo cerchio triangolo, cerchio, triangolo in quick reload per poi ripetere all'infinito triangolo cerchio, cerchio, triangolo quick reload, cerchio, cerchio, triangolo, quick reload e in qualsiasi momento noi se ne potremo andare e questa è la cosa bella di questa combo che ne so, sto qua, oppure sto qui, aiuto, capisce, capisce puntata dei simpson abbiamo tirato burst fire, siamo in pericolo? me do come una scimmia va bene in ogni momento questa combo è piuttosto safe soprattutto se abbiamo evade window e evade extender ora questa combo è la migliore per due tipi di gun lens cioè normal shot gun lens e long shot gun lens per la wide shot gun lens non è la combo migliore non giocate la wide lens, wide shot lens perché è subottimale alle altre due c'è poco da fare, la migliore gun lens è quella della radian ora io non l'ho maxata perché non è la mia main ma è quella della radian per un motivo semplice ha normal shot di livello 4 e sono normal shot quindi potentissimi quando si fa burst fire e sono di livello 4 quindi un livello molto alto molto molto alto di normal shot che pertanto sono molto molto forti ricapitolando ho poco tempo faccio triangolo cerchio in triangolo in triangolo e ma coglio ho tanto tempo faccio triangolo cerchio in triangolo in cerchio poi triangolo rapid fire quick reload sta roba qua quick reload sta roba qua ok? e poi sediamo come scimmiette queste sono le due combo principali le cose fondamentali non situazionali queste sono buone sempre ok? cosa c'è di situazionale che può migliorare questa combo diciamo che le due combo alla fine sono piuttosto simili worm stake cannon perché non è forte perché non si ricarica col quick reload quindi non scomba in se stesso alla solita come fa il burst fire ma questo è singolarmente parlando la nostra fonte di danno più giga mega a che serve perché usarla se è buona solo se è usata singolarmente se c'è un nemico per terra che si sta per rialzare o se avete previsto che il vostro tempo è esattamente questo c'è un bel video di canta per me un cacciatore tedesco che vi metto in descrizione in cui frigge un cusciala d'aura con questa combo mi pare che fosse di canta però non lo so si si chiama canta per me in italiano però lui è tedesco il mondo è bello perché è vario dicevamo possibile anche fare wide sweep in wyrmstake cannon questa è ancora più forte perché wide sweep è uno fa un casino di danni e mezzo però è un po' più lunga quindi bisogna decidere d'accordo overhead smash burst fire wide sweep invece di fare quick reload andiamo in wyrmstake wyrmstake è un'animazione molto lunga sta lì la sola tutto qua cosa fare se l'arma è nel fodero l'arma possiede un attacco da infoderata e una partenza in guardia da infoderata premere r2 ci mette in guardia d'accordo dalla guardia potremmo fa' questo ma abbiamo già visto un po' la circostanza premere triangolo ci vuole fare lunging up thrust avete visto cosa fa lunging up thrust si lunging va verso su yeeeh se una cosa va verso su noi sappiamo che possiamo fare overhead smash bisogna solo capire con quali tasti siccome non abbiamo fatto rising slash che trasforma overhead smash in triangolo allora overhead smash verrà fuori con triangolo cerchio lunging up thrust in overhead smash sapete già tutti che significano ma avrete capito ed è tutto uguale siccome la nostra arma è puntata in alto triangolo cerchio ci fa overhead inverse fire in wide sweep in ricarico in overhead in burst fire in wide sweep in ricarico è il solito nella mente potete benissimo cantarvi la canzoncina funziona ripeto l'unico vero problema della gun lens è capire quando e come uscirà overhead smash cioè da rising slash ops esce con triangolo ma da lunging up thrust esce con triangolo cerchio e anche da lunging up thrust da infoderato esce con triangolo cerchio diciamo che generalmente queste sono le tre opzioni da lunging up thrust con triangolo cerchio e da rising slash con triangolo l'altra variabile è dopo un quick reload dopo un quick reload esce con triangolo cerchio quindi fondamentalmente esce sempre con triangolo cerchio tranne che dopo un rising slash dopo un rising slash esce con triangolo lo so questa è la parte difficile della gun lens nient'altro ora l'attacco in scivolata della gun lens è molto molto interessante trovo molto interessante la mia parte gun lens andiamo a vedere yeee wii scadush ecco qua cosa abbiamo appena fatto dalla scivolata premere triangolo ci fa fare un attacco che lancia la nostra lancia verso l'alto lo sapemo no a quel punto cerchio ci fa fare aerial burst che non è nient'altro che burst fire che non è nient'altro che la mossa che dobbiamo spammare come dei deficienti pertanto quello che dobbiamo fare quando scivoliamo è triangolo in cerchio a questo punto possiamo anche fare un'altra volta cerchio per fare un worm stake cannon oppure rimitarci ad andarsene questo riguarda un po' la circostanza in cui ci troviamo la cosa certa è che sta cosa è sbroccata tutto qua ora parliamo un po' anche degli attacchi in salto si normalmente la lancia ha il classico attacco del triangolo attacco è utile? no perché è un thrust è buono per cavalcare d'accordo? saltare premere triangolo ci fa cavalcare ma non è la nostra opzione migliore nemmeno da lontano la nostra opzione migliore è premere R2 l'avete visto che cosa è che ha appena fatto la nostra lancia premendo R2 si è schiantata per terra cosa ci piace fare quando la nostra lancia si schianta per ferra? blast fire classico easy pesi saltiamo premiamo R2 e poi cerchio e dove siamo? in burst fire e cosa comincia dal burst fire? la nostra stramaledetta combo infinita yeeey skadoosh boom wide sweep quick reload bing boom wide sweep quick reload bing boom tutto lì tutto di quest'arma deve condurre al burst fire perché è semplicemente la nostra arma vincente un piccolo dettaglio su gli shelling cioè i proiettili chiamamoli così infliggono una cosa che si chiama danno fisso cioè non importa dove colpite chi colpite che elemento colpite infliggeranno sempre lo stesso la stessa quantità di danni e quella quantità di danni è determinata dal livello del proiettile livello del proiettile che potete leggere quando andate a craftare la vostra lancia c'è scritto normal shot level 4 che ne so questa al momento è una level 2 e per quanto riguarda gli atti pratici abbiamo visto un po' tutto teoria e robette quest'arma la gun lens siccome burst fire è la mossa che scarica tutti i nostri proiettili avete visto in alto a sinistra aumentare la quantità di proiettili aumenta i danni di burst fire quindi esiste un affare che dice tipo ammo capacity up basta un gioiello o un oggetto che ha un puntino in quello e andiamo a 6 proiettili e 6 proiettili so da paura perché significa un aumento di dps non insignificante visto che facciamo solo burst fire tutto il giorno un'altra cosa molto forte per quest'arma è bombardier aumenta i danni degli esplosivi e i proiettili normal shot quando usiamo burst fire sono tutti gli effetti degli esplosivi quindi li potenziano e poi ancora artiglieri artiglieri livello 3 con questa rotation è più o meno un aumento del 30% del dps c'è poco altro da aggiungere detto ciò in descrizione vi lascio il video di canta per me se era il suo non me lo ricordo magari di qualcun altro comunque vi lascio il video che ho nel mio cervello per farvi intendere come se gioca starma è contro un cusciallo ad aura questo è sicuro credo spero vi sia piaciuto se vediamo durante le cacce bye bye